Musica Benvenuti al TG L'Aquila, in apertura oggi torniamo a parlare dei precari del Comune dell'Aquila perché la situazione di stallo purtroppo continua, ancora nessuna novità sul rinnovo dei contratti agli oltre 50 precari del Comune, la dirigente si ostina infatti a non firmare il provvedimento di proroga nonostante la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane affermi che ci siano tutte le condizioni Una situazione che la senatrice PD Stefania Pezzopane non esita a definire caffiana da un lato il parere, formale, chiesto al Ministero del Lavoro, che dal via libera ai rinnovi degli oltre 50 precari del Comune dell'Aquila, in deroga al Jobs Act Dall'altro la dirigente Coruzzi che, sentito informalmente il MEF, afferma di avere buone ragioni per non firmare il provvedimento di proroga Spettatori, attoniti ed increduli per il rimpalo di responsabilità, i dipendenti dell'ente impiegati nei settori più disparati, compreso quello strategico della ricostruzione che dal 1 ottobre sono rimasti a casa Una situazione di impassa da cui sembra difficile uscire Nonostante gli impegni presi dall'amministrazione comunale per risolvere una situazione affrontata forse con colpevole ritardo Sinceramente non riesco a capire cosa si stia aspettando L'amministrazione comunale ha chiesto al Ministero del Lavoro un interpello con dequesiti sulla possibilità di prorogare i precari in deroga Jobs Act Il Ministero del Lavoro ha risposto prontamente di sì e non c'è dubbio sul fatto che si possa derogare al Jobs Act La senatrice si dice vicina al sindaco e non nasconde critiche nei confronti della dirigente che non può essere costretta ad apporre il proprio sigillo sull'atto di proroga anche se è necessario individuare una via d'uscita per non incorrere in una paralisi degli uffici Sto vicino al sindaco, anche questa mattina ho chiamato il Ministero e mi ribadiscono che non è loro materia che è materia del Ministero del Lavoro e che loro non hanno nulla da sconfessare al Ministero del Lavoro Sarebbe stato ben più grave se il MEF avesse risposto avesse detto no, il parere del Ministero del Lavoro non va bene il fatto che non aggiunga un parere è perché conferma quello del Ministero del Lavoro E sempre a proposito di precari in riferimento alle dichiarazioni da parte dei cosiddetti doni del concorso NERIPAM i precari del Comune dell'Aquila si affidano ad una lunga nota per fornire precisazioni Si sostiene e scrivono che i precari del Comune sarebbero stati assunti per chiamata diretta in assenza di selezioni pubbliche Ebbene, tali dichiarazioni sono errate e diffamatorie i precari, scrivono ancora, sono stati assunti in virtù di una selezione pubblica indetta nella fase post-isma ai sensi di varie ordinanze di protezione civile ministeriale Successivamente proseguono al superamento della selezione venivano quindi stipulate con l'ente locale contratti di lavoro a tempo determinato il cui termine di durata è stato più volte prorogato e rinnovato Le attuali rivendicazioni degli doni riguardano sia chiaro l'interesse ad un contratto a tempo determinato della durata di circa tre mesi ossia da ora sino al fine del 2015 si tratterebbe quindi dell'interesse ad entrare da precari in sostituzione degli attuali precari ad oggi viene precisato i precari del Comune stanno protestando al fine di ottenere non un ingiusto privilegio bensì al fine di vedere attuate le disposizioni legislative che consentirebbero la relativa proroga o il rinnovo pertanto, sino a che saranno vigenti tali disposizioni che ad oggi, nonostante le titubanze del Comune consentirebbero la proroga e il rinnovo fino al 2017 le pretese degli doni sono giuridicamente infondate La cronaca ci porta a parlare della denuncia fatta a due giovani nomadi che sono state, come dicevamo, denunciate in stato di libertà per tentato furto in abitazione si tratta di due ragazze una di 22 anni e una di 24 domiciliate rispettivamente presso i compi nomadi di Roma Tordi Quinto e di Acilia entrambe in stato interessante hanno tentato di introdursi in un appartamento al terzo piano del Civico 10 di via Super Equem all'Aquila un uomo, il padrone di casa che è stato svegliato dai rumori provenienti dalla porta d'ingresso prodotti dalle donne che scassinavano il portoncino per introdursi in casa ha sorpreso le nomadi nel salone mentre frugavano dentro il cassetto di un mobile le due alla sua vista sono scappate senza riuscire a portar via nulla ma nel cortile sono state bloccate da un vicino di casa è subito consegnata al personale della volante della questura dell'Aquila intervenuto subito dopo la segnalazione le due donne hanno consegnato spontaneamente gli oggetti utilizzati per forzare il portoncino condominiale e la porta d'ingresso tra cui una chiave inglese e un paio di forbici da cucina che sono state entrambi sequestrate successivamente le due donne sono state accompagnate presso gli uffici della questura per l'identificazione e per essere denunciate in stato di libertà per concorso intentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle case e parliamo ancora una volta delle inchieste che hanno riguardato ultimamente il comune dell'Aquila interviene a tal proposito il movimento 5 stelle che parla di mafia e corruzione ripercorre tutte le vicende accadute in una sorta di cronistoria all'Aquila nel comune dal 2014 nonostante il piano anticorruzione dicono i pentastellati nel capoluogo abruzzese continuano a verificarsi dei fatti gravissimi il movimento 5 stelle parla di infiltrazioni mafiose e corruzione nel comune dell'Aquila a pagare sostengono sono soltanto i cittadini nonostante il piano anticorruzione varato dal comune dell'Aquila nel 2013 scrivono nel capoluogo abruzzese continuano a verificarsi i fenomeni corruttivi gravissimi tale piano purtroppo accusano i pentastellati contro la corruzione pare non abbia avuto grande fortuna in quanto i casi di corruzione si continuano ad avvicendare con una regolarità sconcertante e con danni a carico sia dell'amministrazione ma soprattutto dei cittadini che ormai diventano incalcolabili il movimento 5 stelle ricostruisce la situazione del comune dell'Aquila dall'8 gennaio 2014 con le dimissioni del vice sindaco Roberto Riga il caso scrivono che lo ha visto coinvolto riguarda tangenti per un ammontare di 500 mila euro elargiti a funzionari pubblici che sarebbero state in definitiva nient'altro che la contropartita per l'aggiudicazione di alcuni appalti per la messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma fra questi Palazzo Carli altro caso di presunta corruzione per appalti vari con ben 25 indagati datato 29 aprile 2015 e riguardante ricordano sempre il settore ricostruzione e messa in sicurezza questo avrebbe coinvolto un imprenditore aquilano Walter D'Alessandro che sarebbe riuscito a convincere il geometra del settore emergenza sisma e ricostruzione dell'Aquila Antonio Leoncini attraverso regali vari quali una vacanza a Tenerife una Mercedes e una Mini Cooper sempre a sua disposizione per favorirlo nell'esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza di alcuni edifici danneggiati accoppito e infine l'ultimo caso di corruzione ricordano i pentastellati in ordine di tempo che riguarderebbe uno scandalo di soldi in cambio di favori a una ditta di traslochi attrice principale di questa vicenda una funzionaria del Comune dell'Aquila Patrizia del Principe nei suoi confronti una misura cautelare interdittiva con sospensione dal pubblico ufficio ma le indagini sarebbero ancora in corso la popolazione aquilana concludono i 5 stelle già provata da terremoto e disgrazie relative vuole una città pulita dalla malavita e dalle mafie nonché immune da qualsiasi forma di clientelismo favoritismo e corruzione solo così l'Aquila potrà finalmente risorgere e ricominciare a volare ora parliamo di un'iniziativa che ha riscosso molto successo nella città dell'Aquila il Festival della Montagna oltre 30.000 le presenze grande successo per questa edizione la seconda del Festival della Montagna che ha trasformato per tre giorni nel Parco del Castello in un luogo dedicato a tutte le attività invernali compreso il soccorso in montagna con una spettacolare simulazione di intervento il servizio di Giorgio Alessandri appassionati e curiosi con il naso all'insù nel weekend all'Aquila per uno dei momenti più emozionanti e coinvolgenti della seconda edizione del Festival della Montagna simulando un infortunio in montagna i tecnici e gli operatori del soccorso alpino e speleologico hanno simulato un intervento di recupero di un escursionista sbloccato su una parete di roccia non raggiungibile dalla base scenario dell'esercitazione una parete verticale del Forte Spagnolo dove i soccorritori sono intervenuti con le stesse modalità e la stessa meticolosità utilizzata per gli interventi in quota dopo una ricognizione della situazione in pochi minuti gli esperti hanno agito con sicurezza e tempestività calando una barella per mettere in sicurezza l'infortunato portato in salvo tra gli applausi delle tante persone a siepate lungo il fossato della fortezza spagnola una dimostrazione spettacolare che oltre ad aver richiamato tutti ai pericoli delle vette e all'enorme lavoro di tecnici volontari e forze dell'ordine che operano quotidianamente per il soccorso in montagna è stata una vera e propria ciliegina sulla torta di una manifestazione che ha richiamato nel capoluogo migliaia di visitatori stand espositivi pareti per le scalate dove tutti hanno potuto cimentarsi con l'emozione dell'arrampicata dibattiti e musica hanno animato la tre giorni aquilana al secondo anno di vita ma che già si propone come uno degli appuntamenti fissi per i prossimi anni in una città dove la montagna è nel DNA degli aquilani e che con meno litigi e campanilismi della politica potrebbe diventare uno dei pochi settori in grado di regalare turismo ed occupazione la pagina culturale ci porta a dedicarci al premio intitolato a Laudomia Bonanni oggi la scelta dei finalisti la giuria tecnica è quella degli studenti ha scelto oggi il vincitore della quattordicesima edizione del premio letterario intitolato a questa grande potessa aquilana Laudomia Bonanni il vincitore sarà svelato il 24 ottobre giornata decisiva per la quattordicesima edizione del premio letterario internazionale L'Aquila Biperbanca intitolato a Laudomia Bonanni la giuria tecnica e quella degli studenti delle scuole superiori della provincia dell'Aquila si sono incontrate e confrontate per disegnare il vincitore dell'edizione 2015 che verrà proclamato il prossimo 24 ottobre poesia in primo piano con le raccolte di Bruno Galluccio Fabrizio Dallaglio e Franco Buffoni i testi sono molto suggestivi e interessanti e quindi è stato anche difficile scegliere secondo me le differenze sono per quanto riguarda il linguaggio credo che possano essere accessibili anche al grande pubblico che di solito non legge poesia altro momento crudo della rassegna sarà l'incontro nel giorno della cerimonia di premiazione con il poeta serbo Charles Simic ritenuto tra i massimi esponenti della poesia contemporanea ed ospite d'onore del premio tutti ingredienti per un momento di altissimo profilo culturale nato nel 2002 per iniziativa della loro cassa di risparmio e dedicato ad una delle principali autrici del Novecento che al suo interno contiene anche una sezione in cui concorreranno gli studenti delle scuole superiori della provincia ma la cosa più simpatica di questi ragazzi è la profondità di pensiero e le motivazioni che danno alle loro scelte per cui diciamo anche loro contribuiscono notevolmente a dare risalto e pregio a questo premio che ormai è giunto alla 14esima edizione anche quest'anno avremo il piacere di avere un ospite di grandissimo livello internazionale un premio Pulitzer quindi la città potrà godere di una giornata di cultura letteraria veramente elevata per quanto riguarda il premio siamo fiduciosi e speranzosi di poter continuare a mantenere questa iniziativa così come l'abbiamo impostata anche se quest'anno abbiamo deciso di togliere un'sezione che diciamo abbiamo ritenuto un po' una sovrapposizione con la sezione A e ora apriamo l'ampia pagina di sport con la Gran Sasso Regbi l'amichevole tra la Gran Sasso Regbi e l'Avezzano Regbi giocata da Vezzano finisce 8 metri a 0 per i grigio rossi guidati dal tecnico e il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Regbi a 13 Pierpaolo Rotiglio il match ha dichiarato il preparatore atletico della squadra aquilana Stefano e Pietropaoli ci ha permesso di testare determinate strutture di gioco e di verificare la preparazione atletica della squadra che ad oggi è condizionata certamente ha detto dal duro lavoro svolto in vista della prima fase di campionato dalla Gran Sasso al Cus Regbi che è sceso ieri in campo per la prima amichevole stagionale a San Benedetto del Tronto impegnata in un triangolare con Tortoreto Regbi o in un Regbi San Benedetto un torneo che si è disputato sul nuovissimo campo da Regbi della società Rosso Blu intitolato a Nelson Mandela la squadra giallo-nero-verde ha ottenuto due vittorie in entrambi i confronti ma le buone notizie non sono arrivate soltanto dai risultati l'allenatore Elio Tazzi ha tratto diverse indicazioni positive della trasferta marchigiana soprattutto da diversi innesti nella rosa con giovani di qualità prosegue intanto senza sosta il lavoro del settore giovanile vocazione del settore Regbi del Cuslacu l'attività condotta da allenatori ed educatori giovani e qualificati è ripartita ormai da quasi un mese ai fedelissimi delle passate stagioni si sono aggiunti nuovi ragazzi incuriositi e davvero felici di fare questo sport ora il basket sfuma all'ultimo secondo la vittoria Chieti per il nuovo basket Aquilano nel campionato di Serie C solo con un tiro realizzato sul filo della sirena finale il Magic Chieti riesce a superare i ragazzi del nuovo basket Aquilano che seppur privi dell'infortunato Lorenzo Carosi hanno lottato sul parquet Chietino mettendo paura ad un avversario che in tutti i pronostici degli addetti ai lavori rientra tra i team più accreditati per la vittoria finale certo resta il rammarico per i due punti lasciati sul parquet di Piana vincolato ma il team del Palangeli torna all'Aquila con la consapevolezza di aver assemblato una formazione che sicuramente darà filo da torcere a tutti gli avversari c'è da segnalare anche un altro aspetto molto importante l'esordio di altri due ragazzi presi dal fertilissimo Vivalio Aquilano e giovanissimi classe 98 a Moroso e Marraffa concludiamo il Lettg parlando del corso per volontari della Croce Rossa domani a Palazzetto dei Nobili ci sarà alle 18 la presentazione i volontari del Comitato Locale dell'Aquila lo ricordiamo hanno svolto più di 7 mila ore di volontariato 4 mila delle quali dedicati a garantire l'assistenza sanitaria ai principali eventi della città tantissimi turni tanto personale però nonostante siano molte le attività svolte c'è ancora da fare per questo Teresa Marinelli presidente del Comitato Locale invita tanti giovani a presentarsi domani per partecipare alla presentazione e scegliere perché no di fare il volontario Croce Rossa con questa notizia termina il nostro telegiornale grazie a tutti voi per la cortesia attenzione grazie a tutti